ciao acquario benvenuti alla vostra lettura di tarocchi per il mese di novembre qui comanda la tarot la stella come state acquario vedremo che accade con tarocchi oracoli arcani maggiori minori e charms iniziamo dagli oracoli per novembre uh ma che bello una fantastica spirale si chiama round and round è come se stessi dando dei giri giri intorno a una situazione una persona o rispetto proprio alla tua vita round and round dire come se stai ripetendo cicli o karma o lezioni da imparare acquario questa specie di shell di conchiglia a spirale vedete che ha si ferma qui sul terzo occhio blu elemento acqua o aria il vostro ci fa parlare 25 fa anche 7 che l'energia del carlo del carro negli arcani maggiori parla di un grande movimento o che ti stai muovendo sento questa energia freneticamente alla ricerca di qualcosa qualcosa che non ti dà pace diciamo ultimamente chi è il tuo spirito guida degli animali totem o la volpe e abbiamo dice think on your feet ti dice di pensare a te in poche parole di usare un sano egoismo questo mese è come se l'universo ti esortasse a darti la priorità assoluta se sei una persona che mette sempre gli altri in primi magari famiglia figli amici situazioni ti dice no non nascondersi non nasconderti dietro questo questa gentilezza ti dice ora tu devi avere la priorità ed è tempo di pensare a te per conto tuo dice quindi priorità assoluta a te è a ciò che importa a te acquario durante questo mese sano egoismo e l'astuzia anche della volpe chi sono il divino femminile maschile che ti accompagnano questo mese faith la fede umanità e benevolenza ti dice resta calmo credi nel buono che c'è in te e negli altri cerca la luce nel mondo cioè in tutte le cose quindi non fare le cose al buio non prediligere le tenebre le cose poco chiare diciamo le situazioni annebbiate dove non si vede come l'acqua cristallina no ti dice di cercare questa chiarezza e purezza in ogni cosa in ogni situazione faith questo è il tuo alleato del divino femminile per questo mese umanità e benevolenza e divino maschile lord ganesh che adoro ed è colui che rimuove gli ostacoli parla di infinita abbondanza ti dice che gli ostacoli ai tuoi problemi attuali verranno rimossi questo mese c'è un supporto spirituale e che anche le connessioni durante questo mese verranno aumentate quindi sono in crescita wow acquario un bell'inizio e vediamo con gli arcani maggiori e minori la generale di passato presente futuro come la tua situazione da dove vieni come ti senti dove vai il mago arcano maggiore uno la morte un altro arcano maggiore e la regina di oro sotto il mazzo il 5 di oro e questo parla è la carta di le miserabili la chiamo di chi si sente povero di chi si sente che ha bisogno di aiuto di parla di coscienza di scarsezza che è l'opposto della coscienza di abbondanza no di sentirsi sempre che si può attirare ciò di cui si ha bisogno qua invece come se uno e zoppo camminano nella neve e sono a testa bassa vedete non vedono la luce di questa chiesa che magari sarebbe pronta ad accogliere oh povero me oh misero me me misero me tapino quindi ti dice di questo è un monito per questo mete di cercare di abbandonare questa sensazione di essere vittima delle circostanze ed è semplice da un certo punto di vista semplicemente dicendo grazie no essendo coscienti di tutto ciò che invece abbiamo ogni giorno per cui essere grati acquario dal passato dal passato qui parla di un nuovo inizio il mago arcano maggiore un grande potere di manifestazione quindi intenzione e azione in movimento il mago il grande alchimista dei tarocchi vuol dire che avete già avuto o questo grande potere personale o la sensazione di poter realizzare tutto ciò che avete in mente anche con poco il mago vedete sulla tavola ha poco e con quello che ha crea magia e come che moltiplica quello che ha in realtà il grande alchimista è colui che trasforma il piombo in oro le situazioni pesanti oscure no o la crisi in diamante in opportunità che succede nel presente trasformazione giustamente collegato anche allo scorpione e al mese di novembre rilascio la morte non parla mai di morte fisica ma di rigenerazione di rinascita di un ciclo che si chiude ma non è una cosa inaspettata è un ciclo che si vedeva in decomposizione da tempo no è come se sta andando verso una risoluzione ed è necessario fare pulizia di questo ci parla come gli alberi si spogliano di foglie in autunno e fanno la pace amatura per il terreno no per i nuovi fiori che verranno la stessa cosa ci chiede di fare questa carta di spogliarci di tutto ciò che è zavorra di tutto ciò che in questo momento è peso inutile per invece coltivare fertilizzare il terreno fare spazio per il nuovo acquario e questa fertilizzazione della terra porta una grande abbondanza vedete il sole l'oro con la regina di oro vi collega all'elemento terra quindi all'energia di toro vergine capricorno e parla di abbondanza vi chiede di trasformarvi anziché sentirvi questo povero miserabile che non ha niente in questa madre no la regina di oro è come la regina madre nutriente sempre fertile sempre rigogliosa abbondante come madre natura come una dea madre quindi ce n'è per tutti coscienza di abbondanza lei ha e tutto quello che ha lo condivide con gli altri anziché pensare quel poco che ho è mio me lo tengo perché sono povero domani è il contrario quello che ho magari è semplicemente una tavola imbandita di cibo oggi la condivido il mio compagnatico con chi c'è perché mi fa sentire abbondante perché mi dà gioia e benessere quindi vi dice di incarnare questa energia abbracciate l'abbondanza acquario con fede con fiducia umanità benevolenza e questo porterà infinita abbondanza gli ostacoli attuali verranno rimossi e credo che sia più un'energia di consapevolezza legata alla materia energia materiale qui sì vediamo in amore facciamo un giro sull'amore che accade per acquario questo mese di novembre abbiamo la papessa il 2 di spade e il carro che potenza due arcani maggiori anche prima due arcani maggiori e sotto il 3 of cups sorellanza fratellanza unione qualcosa di buono in amore può nascere dall'unione quindi aumentando come posso dire la socialità le uscite le cose che fate assieme condividendo passioni con delle persone quindi questa unione avvicinerà a voi l'amore se siete single o rafforzerà i legami già esistenti qua vedo un'energia dal sotto il mago la l'alta sacerdotessa quindi questa può essere tra le coppie anche ideali dei tarocchi certo la anima gemella della papessa è il papa ma anche con il mago è come se condividono la magia quindi la passione per la creazione la passione per l'esoterismo la passione per gli studi per tutto ciò che è mistero da rivelare parla di una grande energia femminile ricettiva lunare qui nel passato nel presente dubbi dubbi su qualcuno dubbi su una relazione vedete il 2 di spade aria la vostra energia acquario ma anche quella di gemelli e bilancia indica che c'è confusione non riuscite a vederci chiaro avete come gli occhi bendati e gli uccellacci neri che vi tirano i capelli che sono i pensieri negativi c'è bisogno di fare calma luce e chiarezza per poter attuare questa trasformazione nella vostra vita amorosa in questo momento dissipata questa coscienza che può essere anche le nostre paure paure di rifiuto paure di abbandono le nostre insicurezze più profonde poi c'è una bellissima carta che è il carro che è la carta del trionfo del vincitore dell'eroe quindi è come avrete chiari i vostri obiettivi e ci andrete avanti a tutta birra e anche chi ha le regine del carro che rappresenta il carro della vostra vita no chi conduce qui cloppete chi mette in equilibrio il tau il cavallo bianco e il cavallo nero gli opposti quindi conflitto e risoluzione ma vediamo anche due cuori per il divino maschile per il divino femminile che ci dicono divino femminile e divino maschile un cuore alato ti dice che il passato è ora dietro le tue spalle rilascialo acquario abbraccia nuove possibilità perché un nuovo sentiero è ora disponibile per te e seguilo con fede di nuovo la parola fate seguilo con fede seguilo con fiducia rilascia il passato e lord ganesh il divino maschile invece ti dice look inside yourself guardati dentro che è un po l'opposto infatti della ti chiede la come di nuovo la papessa di guardarti dentro di ascoltare la tua intuizione esamina tutto ciò che ti sta facendo sentire in questo modo che tu sai come ti senti quindi senti tutto e medita un po sul perché cosa dicono gli charms che indizi ci danno per l'amore acquario novembre abbiamo una rondine legata al tuo elemento aria gli uccelli sono portatori di news di novità di messaggi notizie in arrivo abbiamo la chiave di sol e questa è legata alla musica ma anche all'armonia o qualcuno che è legato alla musica scrivetemelo nei commenti abbiamo una tartaruga quindi arrivano sì ma arrivano con lentezza forse questi messaggi però arrivano qua è come bisogno di lentezza è tutto l'opposto del correre la tartaruga marina dice chi va piano va sano e va lontano ma arriva a meta pensate alla magia bisogna avere fede nel destino lei nasce in un posto e ricorda dopo tutta la vita va a deporre le uova nello stesso posto in cui è nata con la sua bussola interna quindi abbiate fede che la natura sa il fatto suo abbiamo una rana e la rana parla di fango di situazioni poco chiare ma anche di saltare improvvisamente da una situazione all'altra io credo che ti chieda di saltare dove l'acqua non ha fango acquario dove l'acqua è cristallina e dove puoi vederci chiaro abbiamo un cavallo che è simbolo del vigore della masculinità del principio maschile ma anche di passione rappresenta anche sagittario in questo caso abbiamo delle forbici e mi scrivete nei commenti qualcuno che usa le forbici una sarta uno stilista un parrucchiere parrucchiera ma anche chi porta i giardini che si occupa delle piante chi usa le forbici elettricista come vi di cosa vi parla questo simbolino è una croce una croce abbastanza particolare vorrebbe dire mettici come la croce sopra io credo mi è arrivata questa su qualcosa ed è per questo che qualcosa è finito bisogna metterci la croce sopra acquario sento questo perché anche con questo gira rigida è come se state dando tanti giri credo più attorno a qualcuno a una persona a una situazione e quindi ti dice di essere equista di pensare a te invece questo mese di darti tutto l'amore che meriti la forza i regami con gli altri e il carro per andare avanti hai bisogno di uscire da questa situazione di pensieri negativi di oscurità vediamo anche cosa dicono i messaggi degli angeli dell'amore amore ciò che ti sta a cuore fai tre domande le carte ti danno tre risposte acquario sì o no quando concentrati prima domanda e questa è la prima risposta e ti dice agisci quindi non stare a indugiare troppo non stare nella sfera passiva agisci prendi una decisione con determinazione di nuovo il cavallo azione principio young maschile action seconda domanda amore ciò che ti sta a cuore acquario novembre seconda risposta e ti dice il quando nel prossimo futuro qui ci vedono due angeli che volano insieme potrebbe parlarci di riappacificazione di rincontri o dell'incontro con una nuova persona nel prossimo futuro terza domanda acquario e questa è la terza risposta ed è un sì bello chiaro cristallino con un arcobaleno tanta luce sì benissimo acquario quindi agisci nel prossimo futuro sì e vediamo adesso che magica porta deve aprire acquario questo mese o che magica porta si apre per te è volata questa addosso a me e si chiama hummingbird song la canzone del colibri ti dice un nectar nectar of sweetness enjoy it brings the hummingbirds healing as medicine it sings che meraviglia io sento che alcuni di voi si stanno curando da una separazione stanno guarendo queste ferite o leccandosi le ferite ti dice che il nettare di dolcezza di gioia ti porterà la medicina del canto del colibri come guarigione quindi prima di tutto la guarigione acquario e vediamo chi è il vostro ultimo oracolo per chiudere in bellezza e poesia per novembre messaggio per acquario 10 flower spirit spirito dei fiori parla di amicizia come il tre di coppe che è collegato anche all'acqua questa erano energia di cancro pesci scorpione parla di anima parla di tenerezza e parla di gioia questa carta ci mostra questa fatina fatina dei fiori dolce tenera ed è come se fosse l'anima di ogni pianta li ascolta con tutto il cuore ai suoi amici della natura e li accarezza e parla di gustarti il momento o i piccoli momenti di gioia quotidiani con la gioia nel cuore l'entusiasmo di un bambino il nostro bimbo interiore come fonte di ispirazione questa visione questi occhi del bambino l'aiutano a vedere il buono in ogni cosa e specialmente in se stessa e questo stesso messaggio era anche dato dal divino maschile che ti dice di credere nel buono che c'è in te e negli altri di cercare questa luce questo sole questa gioia acquario wow e datti la priorità questo mese carissimi anche oggi qui da mandare a tarot la stella è tutto mi auguro che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura con i simbolini fatemelo sapere nei commenti io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo alle prossime letture ciao